Ala Tornante La reincarnazione spiegata ai ragazzi, a cura di VB. Giocavano spesso a Piazza Ravona facendo lo slalom tra le gambe dei passanti. La loro era una passione seria. Non giocavano a palletta, ma si allenavano per sfidare la squadra della scuola avversaria, che nel quartiere era considerata il Brasile del pallone. Perciò si dedicavano più al gioco estroso che al gioco di squadra, cercando di rimediare alla mancanza di prestanza fisica, con un gioco veloce e rasoterra, fatto di soluzioni imprevedibili, che doveva spezzare il ritmo di chi era più alto e più robusto di loro. Erano in sette e obbedivano agli ordini di Tonino. Questi fungeva da allenatore, perché era il nipote di un ex giocatore di serie A che la domenica mattina allenava una squadretta di serie D all'acqua bulicante. Tonino aveva le idee chiare, era molto dotato tecnicamente e giocava come centravanti. Inoltre aveva delle belle intuizioni nell'attribuire i ruoli, nel suggerire ad ogni compagno la tecnica migliore e nel saperla sfruttare con intelligenza. A Massimo, ad esempio, che era il più piccolo ma anche il più veloce della squadra, Tonino aveva assegnato il ruolo di ala tornante, con il doppio compito di penetrare nella difesa avversaria e tornare velocemente a centrocampo per coprire la squadra. Commenti La passione per un ideale è sempre seria, perché esprime la parte più elevata di noi. L'estro è un'ispirazione che proviene dai sottopiani più elevati della mente. In pochi hanno l'estro, perché le persone che hanno un'evoluzione medio-alta sono poche. Tonino era un leader. Non occorre essere dei leader dei capi per vivere al meglio. Occorre essere degli umili lavoratori di se stessi, che lavorano per un mondo migliore, iniziando da se stessi. Ognuno ha un ruolo nella vita. Se non lo ha, non è un fallito, ma deve imparare che cosa significa non avere un ruolo nella vita. L'allenatore è un maestro di una disciplina sportiva, ma in definitiva è un fratello che ti svela i segreti di quella disciplina. È importante la sua funzione, ma sappi che potrai fare meno dell'allenatore, appena avrai compreso che potrai migliorare le tue prestazioni predisponendoti con il sentire al potenziamento della tua volontà. Il concetto di ala tornante è prodotto dalla mente dell'allenatore. La passione che il trainer riesce a infondere nei suoi giocatori proviene invece dalla sua coscienza, dal suo sentire, dal suo cuore.